Onorevole Guidesi, per favore, relatore, per favore, allora, onorevole Tripiedi, prego, prego, ora può parlare. Tutto il Parlamento, a partire dal Movimento 5 Stelle, la Lega, SEL, anche il Partito Democratico in Commissione Lavoro, intendo, perché poi il Partito Democratico non la vede sempre come la vedono i deputati della Commissione Lavoro. Quindi cerchiamo, magari, una riformulazione, accettiamo questo emendamento per dare un senso a questa battaglia. Grazie. La ringrazio. Allora, altri deputati hanno sottoscritto nel frattempo l'emendamento presso la Presidenza. Chiedo se vi siano altri interventi, altrimenti lo poniamo in votazione. Non vi sono altri interventi. A questo punto, onorevole Turco, prego, onorevole Turco. Chiedo scusa, io non la vedo. Se i colleghi intorno a lei si abbassano. A questo punto, per fare una richiesta al Governo e chiedere, magari, anche, semplicemente, di accantonarlo e di votarlo dopo. Allora, io su questo chiedo il parere al relatore. Che cosa intende fare? Di votare, Presidente. Di votare. Perfetto. No, va bene. Allora, il parere al relatore è quello di andare avanti. A questo punto, se non vi è una richiesta formale di accantonamento, io lo pongo in votazione. È il 13.37. Gniecchi, fatto proprio dal gruppo della Lega Nord, dichiaro aperta la votazione. Cioè, il parere contrario di Commissione e Governo è favorevole a questo punto di entrambi i relatori di minoranza. Colleghi, per favore. Grazie. Grazie. Grazie.